Grazie, buongiorno. Il mio compito, io non vi parlo di Bricco, vi parlo della vita. Quindi parlo di voi e di quello che sta succedendo adesso e del perché succede. E troverete le spiegazioni di tutto quello che la dottoressa Rigoni ha appena raccontato. E' incredibile questo fatto, ma è così. Non è che ci fossimo messi d'accordo, però di fatto io vi voglio spiegare quali sono le nuove regole della vita e perché esistono queste nuove regole. E' come se io... Io ho una presentazione che potrebbe durare quattro ore, ma la riassumo in venti minuti. Se poi qualcuno vorrà avere dei dettagli, siamo disponibili a dare il materiale. E' come se noi passassimo da logiche meramente quantitative che hanno accompagnato i secoli che ci precedono e anche i fine degli ultimissimi decenni. Perché voi sapete che il primo bisogno che la gente ha è di riempire la panza. Maslow lo diceva, il primo bisogno è ragazzi, io devo avere le cose fondamentali per la mia esistenza. Ma quando poi la gente ha cominciato a riempire la panza, i ragionamenti cambiano e si passa ad una logica più di qualità che non di quantità che è una logica che riguarda la vita nella sua complessità dove l'attenzione, e questo ve lo dimostrerò, passa dal prodotto, primo elemento fondamentale a cui tutti fanno attenzione il prodotto commerciale dalle aziende, ad un momento immediatamente successivo in cui, e lo vedremo, l'attenzione passa dal prodotto alla relazione con il consumatore, alla capacità che il prodotto ha di soddisfare un bisogno del consumatore, ad un terzo momento di cui vi voglio parlare, in cui l'attenzione non passa solo al prodotto che è ovvio, non passa solo al consumatore che è ovvio, ma passa all'individuo e ai suoi bisogni di vita, e al suo stile di vita. E allora è come se io dessi ragione a quello che Robert Kennedy diceva nel 68, nel 68, 20 marzo, non lo ricordo perché è il giorno in cui mi sono laureato, nel 68, lui diceva una cosa incredibile, lui diceva che noi tutti guardiamo sempre il Ponte Interno Lordo, come se il Ponte Interno Lordo fosse tutto per noi e da quello dipendesse anche la nostra felicità. Però lui diceva che il Ponte Interno Lordo non comprende l'inquinamento dell'aria, anzi, non comprende la salute, l'educazione, la gioia, la gentilezza, l'intelligenza, l'onestà, la giustizia, l'equità, il coraggio, la saggezza, cioè non comprende niente di tutto quello che è interessante avere per una vita che valga la pena di essere vissuta. 20 marzo, perché lui stava aspirando alla Casa Bianca, 20 marzo, il 6 giugno l'hanno ammazzato, perché sono discorsi che non si possono fare questi, perché sono discorsi che alle multinazionali, al capitalismo e alla finanza non vanno bene. Ora noi facciamo questi discorsi, speriamo di subire sorte analoga, o non subire sorte analoga. Allora, io vi parlo di quattro cose, ci sono quattro elementi che ci hanno modificato in questi ultimi vent'anni, e siamo solo all'inizio di questa modifica, però vi dico subito che nei prossimi 5-6 anni si completerà questa modifica, e credo che nessuno si sia reso conto di quello che sta accadendo. Cioè noi vediamo delle manifestazioni, molte ce le ha dette Arrigoni poco fa, e diceva perché ci sono queste cose. Allora, le quattro cose fondamentali sono, uno, le conseguenze della globalizzazione, che è la causa più drammatica, che sono lette da persone che sono cambiate nel tempo, in un modo impressionante, per effetto di tre cause. Una è l'istruzione, che è lievitata come nessuno si sta rendendo conto, due, è il protagonismo delle donne, e ha un suo senso importantissimo questo, e tre, è lo sviluppo di internet punto zero, soprattutto nella parte che riguarda i social network. Quindi, quattro cause, globalizzazione, l'istruzione dei soggetti, le donne, che sono un capolavoro della vita, e ve lo dice un masculo vero, voglio dire, ma le donne sono incredibili. Io vorrei, la cosa più bella è, se io avessi tempo per parlare delle donne, perché le donne sono, ci sfugge il come sono fatte le donne. E vabbè, ne parleremo un'altra volta. Le donne hanno, vi dico subito, due caratteristiche fondamentali delle donne. Io so che è brucio del tempo fondamentale, però è troppo bello tutto questo. E vi dico qual è la conseguenza di questo. Innanzitutto le donne, a partire dalle caverne, mentre l'uomo muscoloso aveva un solo compito, che è andare contro il bisonte, per poter mangiare, e quindi aveva i suoi calcoli, razionali, un'operazione, ma aveva soltanto questo compito, e la gestione razionale del cervello, ha fatto sviluppare la parte sinistra del cervello, che è quella ingegneristica, le donne si occupavano della caverna, della polizia, dei figli, del mangiare, dell'orto, e si occupavano anche di attacchi che aveva la caverna. Cioè le donne hanno sviluppato la capacità di un ragionamento multivariato. L'uomo una cosa per volta, le donne tutte assieme. Quindi hanno questa capacità olistica del pensiero, è come se loro, in ogni decisione, facessero un'elaborazione multivariata, sofisticatissima, e hanno la capacità, e quindi ha sviluppato tutta la parte destra del cervello, che è una parte di eccezionale valore. Questo primo, secondo, le donne sono state identificate dalla natura come entità che portano avanti la specie umana. E tutto questo le rende diverse dagli uomini, perché la relazionalità, la gentilezza, il cercare di costruire una relazione positiva, per loro è fondamentale. Fa parte della loro natura, quando anche poi possono anche decidere di non far figli. Non è importanza. E la natura ha favorito tutto questo, facendo le donne molto più graziosi degli uomini, più interessanti, attraenti e quant'altro, insomma. Ecco, tutto questo ha delle conseguenze impressionanti su tutto quello che sta accadendo. Delle donne ho parlato. Parliamo della causa innescante, globale, che è la globalizzazione. Io, nell'89, quando è caduto il muro di Berlino, avevo 45 anni, erano tutti i garrati, erano andati a Berlino a rompere il muro, eccetera. Benissimo, democrazia nuova, eccetera. Però nessuno ha pensato quali potessero essere le conseguenze della caduta del muro di Berlino. Io la semplifico, dico, io facevo ricerche finanziarie in quegli anni, io sono un ricercatore sociale, scusate, non mi sono presentato. Facevo ricerche finanziarie e in quegli anni, anni 70-80, c'erano gli imprenditori, nelle aziende, e il mercato finanziario premiava molto quelle aziende che presentavano progetti a 3, 5, 7 anni, cioè che avevano una visione del futuro e oggi si direbbe lavoravano in logica di sostenibilità economica, cioè spostando l'interesse nel tempo per la creazione del valore. Questa era la cultura fino agli anni 90, primi anni 90. Cade il muro di Berlino, nasce la globalizzazione, io semplifico, dico la Cina, ho cominciato a portare costi dell'est, prezzi dell'ovest, anche se facevano prezzi molto bassi, e il mondo ha scoperto che si potevano fare degli utili altissimi nel brevissimo periodo. Il mercato finanziario ha detto, ma che aspetta, altro che piani c'è cinque anni, quindi basta produrre di là e venire di qua e si fanno degli utili dalla Madonna. Il mondo occidentale ha cominciato a delocalizzare di là la produzione e tutta l'attenzione si è iperconcentrata sul brevissimo periodo. Fra l'altro, contemporaneamente in quegli anni è successo un fatto importante che gli imprenditori hanno cominciato a dismettere la proprietà e la proprietà si è frazionata sul mercato azionale soprattutto nelle grandi aziende e la gestione dell'azienda si è i manager che non erano imprenditori erano manager i quali hanno cominciato a subire i condizionamenti del mercato finanziario che imponeva loro utili nel brevissimo altro che tre anni. L'anno il 31-12 poi le trimestrali io faccio parte di una multinazionale siamo in 110 paesi le mensili aspettiamo che arrivano le settimanali cioè dobbiamo garantire gli utili nei 30 giorni dico ragazzi e qui come si fa allora un tipo noi facciamo gli investimenti perché la vita va avanti si rigenerano in continuazione bisogna fare investimenti gli investimenti vanno ammortizzati allora io non posso fare gli investimenti se no gli utili si mortificano e allora hanno cominciato a ridurre a calmerare tutto questo ma se io riduco gli investimenti e per modificare i processi e per innovare i prodotti succede che io faccio i prodotti come gli altri cioè siamo tutti in competizione ma se siamo tutti in competizione per venire bisogna ridurre i prezzi caspita ma se io riduco i prezzi i margini si riducono ma io non posso ridurre i margini perché se no mi taglia la gola allora devo ridurre i costi ma quali sono i costi allora comincio a ridurre i costi del personale comincio a fare mobilità comincio a non assumere i più giovani comincio a prepensionare ma se io non do soldi alla gente la gente compra di meno ma se compra di meno io vendo di meno ma se vendo di meno si riducono gli utili io non posso ridurre gli utili allora devo creare mobilità questo si chiama spirale al collage basso nella quale siamo tuttora inseriti siamo tuttora inseriti perché fare investimenti di meglio lungo periodo ormai è difficilissimo quantomeno in Europa Bruxelles è contro la merca condiziona tutti è contro bisogna stare attenti ai conti e noi siamo infilati in questo modo vi dico subito che gli americani non sono messe così perché là sono nati dei fondi che accettano i soldi dai investitori di lungo periodo che sono usciti dalla borsa e danno soldi ad agenti che fanno piani tra i cinque anni bene i nostri colleghi di New York li hanno intervistati io ho già bruciato metà del mio tempo ma non ho ancora cominciato a parlare perché ho un suggeritore qua che mi e questa gente queste aziende vanno avanti a più 15 ogni anno in media a fronte del fatto che gli altri che seguono le altre strategie di breve sono piatti questi proseguono al 15% l'anno in più va bene vi dico subito che se questo è successo nelle grandi aziende nelle piccole aziende è ancora peggio l'Italia fa 4 milioni di piccole aziende 20 milioni di persone che ci lavorano cioè gli italiani lavorano nelle piccole aziende le piccole aziende non sono mai state abituate a lavorare in competizione perché sono un po' ritagliate il territorio ognuno lavora per i fatti propri bene sono arrivati i prodotti dell'est prodotti dell'est a prezzi inavvicinabili le piccole aziende non avevano soldi per modificare i processi né per creare nuovi prodotti ad una nuova velocità non ce li avevano le banche non diventate loro erano fregati e nessuno ha spiegato loro che piccoli non si può rimanere bisogna diventare grossi perché se si diventa grossi accorpandosi fondendosi facendo le varie soluzioni si hanno più soldi a disposizione per rigenerare devo sforare raccontandovi un episodio di qualche decennio fa 1880 negli Stati Uniti in una certa zona vicina a Seattle c'erano 2000 famiglie produttrici di petrolio che si facevano una concorrenza spietata e non sapevano come fare e non avevano i soldi per diversificarsi finché uno ha alzato la mano e diceva ma perché non ci mettiamo tutti assieme è nata la ESSO che invece di avere un dollaro per famiglia per fare l'Ice che c'è stato di avere 2000 dollari con un unico centeno di rigenerazione del tutto e ha sfondato il mondo bisogna avere soldi perché ricordatevi e me lo stavo dimenticando che la vita è fatta di quattro regole e se voi non le seguite queste quattro morrete le quattro regole sono che il prodotto deve essere di ottima qualità e di avere una buona forma un buon concetto una buona sua vendibilità sostanza e forma ma poi il prodotto deve rigenerarsi in continuazione perché la vita per definizione si rigenera e quando non si rigenera più non si chiama più vita e poi una cosa che ha detto prima Rigoni fondamentale quando io ho anche un prodotto perfetto ma non entro in relazione col mercato io muoio la relazione il momento finale è fondamentale e io quello che vi dirò se avrò il tempo è che tanto più la gente aumenta di livello e di pretese tanto più il suo desiderio di diventare una relazione positiva diventa massimo massimo allora non avrò mai il tempo di dire quello che voglio però vi dico questo vi ho detto che abbiamo un periodo dalle spalle drammatico la gente comincia a capire cosa è successo guardate questo grafico questo grafico rappresenta il livello minimo delle istruzioni superiori cioè l'avere almeno un diploma oppure di più il laurea voi vedete cosa è successo qua scusate se mai ce la farò a uscire ecco noi siamo stati ignorantissimi veniamo dalla storia di drammatica ignoranza nel 2000 eravamo arrivati a un punto in cui l'istruzione superiore era del 22% quindi ci abbiamo messo un milione di anni o due milioni non so quanti ce ne abbiamo alle spalle per arrivare al 22% bene in 14 anni dal 22% siamo arrivati al 44% c'è un'impennata pazzesca non solo ma quello che io adesso vi racconterò nei pochi minuti è che cosa succede in questo periodo in questo livello di crescita importante ma vi dico subito che nei prossimi 6-7 anni noi arriveremo all'85% quindi quello che io sto raccontando adesso è nulla rispetto a quello che accadrà ora vedete quando la gente era qui le imprese che hanno imparato a fare imprese in questo periodo qui facevano quello che volevano era il periodo che io chiamo del marketing 1.0 l'attenzione era al prodotto tanto la gente non era capace di reagire l'obiettivo era vendere più prodotti la gente a critica comprava quello che le aziende davano incapaci di reagire c'era totale affidamento affidamento alla chiesa affidamento ai partiti politici affidamento alle grandi marche tutti sotto e l'offerta era sopra e ha imparato a fare quello che ha fatto in quel periodo adesso però succede che gli individui non sono più qua ma cominciano ad essere qua e cominciano a capire dicevo ma io sono un'entità importante per te perché sono io quello che compro i tuoi prodotti io non sono tuo cliente da sfruttare ma sono tuo partner e sarò importante per te se io ti darò la mia fedeltà perché questa è valore per te quindi io pretendo da te un cambio radicale nel comportamento che pretendo molta più orizzontalità molta più onestà tu devi fare dell'onestà il tuo elemento differenziale di offerta e mi devi fare narrazione altro che breve periodo mi devi narrare cosa succede nel tempo e questo è l'auspicio io sto davvero accelerando per dire che da un'epoca 1.0 noi siamo entrati in un'epoca 2.0 ma adesso quello che sta accadendo e noi abbiamo segnali da tutto il mondo Stati Uniti è già molto evidente che sta arrivando in Europa e arriverà prestissimo anche in Italia è che noi stiamo entrambi in un'epoca diversa che si chiama epoca 3.0 cosa vuol dire? ah vi dico questo epoca 1.0 l'azienda qua il cliente è sotto giusto? periodo 2.0 azienda e cliente sono alla pari periodo 3.0 l'azienda va sotto e il cliente sopra cosa vuol dire? vuol dire che l'azienda deve impegnarsi al massimo per dare al cliente il massimo di quello che può dare possibilmente sorprendendolo è l'effetto wow cioè il cliente ha di più dall'azienda di quanto lui non si aspetti e non siamo alla fine allora cosa succede? vi faccio un esempio di un effetto 3.0 la soccoratizia americana che vende prodotti assocorazioni per auto si rende conto guardando il proprio CRM che c'è un 2% di clienti che sono ragazzi che stanno facendo il militare ma negli Stati Uniti il militare si fa cose sempre all'estero allora li ha contattati uno per uno e gli ha detto ma tu sei all'estero a fare il militare allora non devi pagare l'assicurazione io ti rendo i soldi sicuro mica ti li ho chiesti io mi preoccupo di te tu ti devi fidare di me questa informazione che ha riguardato una piccolissima parte di clienti è andata a finire sui social network dopo 10 giorni 70 milioni gli americani sapevano di stare qua quella compagnia di assicurazione che ebbe una piccolissima contrazione di utili in quell'anno l'anno dopo crebbe del 70% perché aveva inaugurato il cosiddetto extreme trust la massima fiducia io tu ti devi fidare che è il rapporto che lega il bimbo alla mamma lui sa che sua mamma non può che fare il suo bene ecco questo è il rapporto che deve instaurarsi tra l'individuo e l'azienda un altro caso banalissimo e poi vado più rapidamente è un'azienda che un operatore telefonico vendeva contratti 100 dollari al bimestre ha scoperto che c'erano delle vecchiette che usavano pochissimo il telefono ma il nostro contratto le ha contattate uno per uno ha detto ma no ma ti cancello il contratto da 100 te ne faccio uno per 50 e ti rendo i soldi che nell'ultimo anno mi hai dato in eccesso anche questa roba qua si è venuta a risapere ha scatenato gli stream trust azienda che è aumentata in tre anni del 30% l'anno allora noi abbiamo a che fare sempre di più con individui che non sono solo consumatori ma che nella crescita continua a istruzione e poi è arrivato internet internet soprattutto è arrivato nello scatenamento di social network e nello scatenamento della relazione allora voi sapete che cosa fa nascere l'istruzione l'istruzione fa nascere un sentimento incredibile purtroppo non ce la farò mai però voglio dire questo prima quando uno è ignorante è come se avesse il muro dell'ignoranza davanti e non vede niente lui non sa che oltre il muro ci sono gli altri e c'è la conoscenza e se lui si istruisce la sua attenzione esce da se stesso va verso gli altri e lo scopre che gli altri sono fondamentali sia per costruire vita fisica che vita intellettuale senza gli altri non esiste e allora si scatena il senso della relazione con gli altri non solo il senso dell'etica io rispetto gli altri che stanno attorno a me non solo il senso della sostenibilità il rispettare gli altri che verranno dal bus culturale sociale ambientale economica eccetera ma si scatena la relazione lo stare con gli altri e la pretesa dello stare con gli altri aumenta sempre di più man mano che le donne arrivano voi sapete che le donne nel segmento sociale che noi analizziamo e che è quello che conduce l'evoluzione sociale le donne in quella cella particolare dalla nostra mappa negli anni 90 rappresentavano il 30% e i maschi il 70% nella misurazione fatta nel dicembre 2013 le donne lì sono il 70% e gli uomini il 30% e il modo di vivere la relazionalità il fare in modo che l'altro mi rispetti in quanto individuo più che in quanto consumatore diventa fondamentale parlavo della relazione nel punto di vista è fondamentale più importante ancora del prodotto perché lui mi capisce mi vede sa chi sono io sa che cosa voglio e questo diventa un aspetto fondamentale e allora le aziende nel posizionarsi devono capire molto bene il target e devono capire come interpretare il ruolo di azienda con la responsabilità che si devono assumere perché noi viviamo in Italia sappiamo che il mondo politico di governo è un mondo drammatico non ve ne parlo perché mi altero troppo e quindi devo stare più tranquillo e allora la gente sa che il sistema economico è quello a cui ci si deve riferire è quello che ci salva e il sistema economico ha l'obbligo di assumersi responsabilità sociale e di inserirsi nel contesto vitale rispettando noi non solo come consumatori ma come individui assumendosi la responsabilità sociale di un nuovo modo di fare business io mi fermo perché il mio amico qui mi dice che sono andato oltre ma questo tema uno può fare il business che vuole può occuparsi di fare da te o può occuparsi di vendersi di auto eccetera ma deve sapere che ha a che fare con persone radicalmente diverse un'ultima cosa tutti noi mi aggancio a una cosa che appena detto Arigoni tutti noi non siamo più massa non facciamo più parte delle masse siamo individui diversi gli uni dagli altri è nata la cosiddetta frammentazione di massa e noi desideriamo che le nostre aziende che ci offrono i prodotti si rendano conto di noi dei nostri specifici bisogni il che è possibile non è impossibile c'è un desiderio di avere delle offerte uniche che è impressionante e allora mi fa venire in mente quello che prima ha mostrato Arigoni che ciascuno vuole il suo prodotto voi sapete io mi sono molto informato su quelle che lei parlava prima delle stampanti 3D voi sapete che notizia di ieri sera negli Stati Uniti hanno presentato un prodotto italiano è un'auto fatta in stampanti 3D costo inesistente sapete perché il costo inesistente perché non ci sono costi di trasporto perché si fanno con polveri o con materiali primari non ci sono costi del personale non ci sono costi di distribuzione perché il prodotto viene stampato per addizione sul luogo non ci sono immobilizzazioni di capitale per fare le scorte i costi della materia prima sono bassissimi che è materia prima originaria non ci sono costi di scarti e di fatto c'è soltanto il costo del tempo di ammortamento della stampante per quei pochi minuti che mi realizza il prodotto ora io vi dico oggi come oggi le migliori stampanti con cui si possono costruire macchine case eccetera costano 2 milioni perché il mercato è odestissimo ma le previsioni che noi facciamo è che nel futuro le stampanti potranno costare quelli che oggi costruiscono case costano 1000 euro 1000-1500 euro a questo punto qual è il mercato il mercato è quello delle applicazioni io compro i fabbricanti gli stampanti mettono a disposizione applicazioni delle app da mettere sullo smartphone con le quali si può fare tutto e io le posso personalizzare a costo zero e posso inviare l'applicazione allo stampatore che è sotto casa oppure che ho in casa e avere quello che voglio in tempo immediato a costo irrisorio il futuro è questo sappiate che con gli stampanti nel 2008 nessuno sapeva niente ho visto dei prodotti fatti nel 2013 sono rimasti fanno i motori degli aerei con una precisione della decimo di millimetro fanno tutto vi dirò che si possono fare abiti si possono fare spaghetti pizze macchine vasi scopri tutto quello che si vuole tutto quello che si vuole e il futuro è il futuro delle applicazioni dove ognuno ha la sua pensateci perché il futuro ha un'espansione ha una velocità di evoluzione che è questa noi non eravamo abituati noi non veniamo da questa epoca noi veniamo da un'epoca che è questa in cui nulla accadeva adesso c'è un'esplosione ci sta scappando di mano tutti noi vedete anche il mondo delle grandi aziende è fatto da manager i manager sono valutati al 31-12 che gli fregano di quello che capita fra tre anni cosa gli rifrega anche quelli che hanno lanciato i mutui saprani che hanno fatto soltare il sistema finanziario io l'intervistare e gli dice ma lei che cosa fa ma se fra due anni quei disgraziati che hanno preso questo mutuo non hanno soldi e infatti non li hanno avuti perché erano quelli che sono timati via in mobilità non le pagano non è un problema mio fra tre anni io non ci sono più capite il mondo manageriale lavora sul breve periodo mentre il lungo periodo è un periodo di rivoluzione totale e nessuno se ne sta accorgendo grazie